Quante volte ti è capitato di vedere un album pieno di carte Pokémon e di non riuscire a capire quali fossero le carte di valore? Questa, ad un occhio meno esperto, potrebbe sembrare una comunissima reverse. Stiamo parlando invece del ponita livello 17 fuori serie del set Platino Archeus, che in condizioni liarminti in lingua inglese raggiunge facilmente i 100€. Anche questo Charmander olografico è una fuori serie del set Ex Drago, che in PSA 10 ha venduto recentemente per la bellezza di 420€. Arriva il Team Rocket, una semplice trainer holo. E invece parliamo della fuori serie del set Ex Team Rocket Returns. Carta difficilissima da trovare in condizioni nierminti. Pensate che già Excellent gira intorno ai 150€. Guardate questo Farfetch, lo snobberebbe chiunque. Si tratta dell'unica fuori serie del set Ex Smeraldo. In italiano nierminti vale circa 25€, non male per un Pokémon come questo. E tu le conoscevi queste carte? Iscriviti e scrivimelo nei commenti.